La Toscana continua senza sosta la ricerca di nuovi posti letto dedicate ai pazienti Covid. Il presidente della regione toscana Eugenio Gianni ha effettuato un nuovo sopralluogo alla cittadella della salute, Campo di Marte di Lucca, con il direttore dell'Aslo Nord-Ovest Maria Letizia Casani, gli assessori regionali Monia Monni e Stefano Baccelli, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini. In questa palazzina, nel padiglione A, saranno attivati fino a 150 posti letto nel giro di qualche settimana e si andranno ad aggiungere 50, di cui 12, di terapia intensiva già pronti ad essere attivati in caso di necessità. Obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile 1.500 posti letto aggiuntivi per l'emergenza Covid e dare così respiro agli ospedali che si trovano in difficoltà per l'incremento dei ricoveri. L'obiettivo che mi propongo è allargare l'offerta sanitaria in Toscana, ovvero allargare quello che è l'ambito di posti letto Covid che possano prepararci a quello che è la capacità di ospitare e curare malati Covid nei prossimi giorni su un tasso che è quello ogni giorno di nuovi contagi. Conseguentemente ecco che le strutture sanitarie che sono state dismesse, come in questo caso, solo da poco tempo, si prestano più di altro, si prestano più che naturalmente fare ospedali da campo, si prestano più che utilizzare altre strutture, realizzare ex novo visto i tempi. I posti disponibili al campo di Marte vanno ad aggiungersi a quelli già recuperati nei giorni scorsi, 500 al Creaf di Prato, 50 all'ospedale Santo Stefano di Prato, 28 all'ospedale di San Mignato. Il presidente Gianni ha parlato anche del personale necessario per attivare i nuovi posti letto. Ho dato indicazioni proprio in questi giorni ai nostri dirigenti di attivare tutte le forme più rapide possibile per assumere personale. È evidente che il personale nella regione toscana è un personale che ci caratterizza perché abbiamo negli ultimi sei mesi, da quando si è aperta questa possibilità, assunto a tempo indeterminato 5.000 persone nel settore sanitario. In Italia sono state poco più di 15.000, quindi siamo la regione che ha assunto di più.